Salve amici. Oggi annunceremo alcuni treni dalla stazione di Perugia. Il treno alta velocità frecciarossa 93-29 di Trenitalia delle ore 22 e 30 proveniente da Torino Porta Nuova è in arrivo al binario 1. Attenzione. Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale veloce 40-89 di Trenitalia proveniente da Firenze Santa Maria Novella è diretto a Foligno delle ore 22 e 40 è in arrivo al binario 2. Attenzione. Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma. Perugia-Ponte-San Giovanni-Bastia-Assisi-Spello. Il treno Intercity 599 di Trenitalia proveniente da Milano Centrale è diretto a Terni delle ore 23 e 17 è in arrivo al binario 2. Attenzione. Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma. Perugia-Ponte-San Giovanni-Assisi-Spello. Il treno Intercity 15-09 di Trenitalia proveniente da Prato Centrale è diretto a Terni delle ore 00 e 05 è in arrivo al binario 2. Attenzione. Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 49-48 di Trenitalia proveniente da Foligno delle ore 5 e 14 è in arrivo al binario 2. Attenzione. Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno alta velocità Frecciarossa 93-00 di Trenitalia delle ore 5 e 24 per Torino Porta Nuova è in partenza dal binario 1. Ferma. Teronto-La Cortona, Arezzo, Firenze-Santa Maria Novella, Bologna Centrale-Sotterranea alta velocità, Reggio Emilia alta velocità Medio Padana, Milano-Rogoredo, Milano Centrale, Torino-Porta Susa. I livelli Executive Business sono in testa al treno, su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione. Per agevolare l'accesso al treno, invitiamo ai viaggiatori a disporsi lungo il marciapiede, in base alla posizione della carrozza relativa al livello di servizio acquistato. Il treno regionale veloce, 47-21, di Trenitalia, delle ore 5 e 54, per Roma Termini, è in partenza dal binario 2. Ferma. Perugia Ponte San Giovanni, Bastia, Assisi, Spello, Foligno, Trevi, Spoleto, Baiano di Spoleto, Terni, Narnia Media, Orte, Roma Tiburtina. Il treno regionale veloce, 40-70, di Trenitalia, proveniente da Foligno, è diretto a Firenze Santa Maria Novella, delle ore 6 e 13, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma. Perugia Silvestrini, El Veracorciano, Magione, Passignano sul Trasimeno, Terontola Cortona, Camucia Cortona, Castiglion Fiorentino, Arezzo, Monte Barchi, Terra Nuova, San Giovanni Valdarno, Figline Valdarno, Firenze Camponarte. Il treno Intercity 5-8-0, di Trenitalia, proveniente da Terni, è diretto a Milano Centrale, delle ore 6 e 36, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma. Terontola Cortona, Arezzo, Firenze Camponarte, Firenze Rifredi, Prato Centrale, Bologna Centrale, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Piacenza, Lodi, Milano Rogoredo. La prima classe è in testa al treno. Il treno Intercity 5-3-1, di Trenitalia, delle ore 6 e 40, per Roma Termini, è in partenza dal binario 3. Ferma. Perugia Ponte San Giovanni, Assisi, Foligno, Spoleto, Terni, Orte, Roma Tiburtina. La prima classe è in testa al treno. Il treno regionale 49-49, di Trenitalia, delle ore 6 e 53, per Terni, è in partenza dal binario 4. Ferma. Perugia Ponte San Giovanni, Bastia, Assisi, Spello, Foligno, Trevi, Spoleto. Ferma. Perugia Ponte San Giovanni, Assisi, Spello. Grazie.